Due persone in manette ed un chilo di droga fra eroina e cocaina sequestrata. Questo è il bilancio di un'operazione condotta dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile della Questura di Pescara e dalla sezione cinofili della squadra volante che hanno arrestato i coniugi Massimo Bevilacqua, 44 anni, e Bambina Sauchella, di 45, entrambi residenti a Pescara nel quartiere Rancitelli. I due avevano nascosto la droga, suddivisa in più involucri di vario peso, abilmente all'interno di una nicchia mimetizzata da una mattonella ricavata sotto il pavimento di uno stanzino posto nel reto dell'abitazione. Avete messo le mani su un'organizzazione ben radicata sul territorio ma che lavorava anche bene. Tra l'altro avete ritrovato delle agende su cui erano segnati i nomi delle auto civetta della polizia. Sì, erano delinquenti di spessore elevato, di particolare abilità criminale contro il quale abbiamo dovuto usare delle strategie investigative sofisticate di un certo livello. E comunque non sono riusciti a fermare la nostra azione investigativa e questa operazione di ieri lo conferma. L'operazione di queste ore conferma anche il legame tra alcune famiglie rom di Pescara e gli albanesi. Sì, ormai c'è un asse storicamente stabile che lega le famiglie rom pescaresi dedicate al narcotraffico ad organizzazioni criminali albanesi che si occupano dell'importazione e dello smistamento di partite di droga.